Sono ripresi questa mattina i lavori di riqualificazione di Piazza Regina che termineranno entro pochi giorni. Il progetto di riqualificazione dell'antica piazza rappresenta la naturale prosecuzione del percorso creato su iniziativa del nostro sindaco per la piena frizione della città antica. Lo ha dichiarato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Mazzara del Vallo, Silvano Bonanno, annunciando che l'impresa Rubino e Genna Di Marsala, giudicataria dell'appalto con un ribasso del 33,44% sull'importo a base d'asta di circa 146 mila euro, ha ripreso questa mattina i lavori di pavimentazione del tratto di piazza che ne era rimasto privo dopo la demolizione dell'antico chiosco di Adema che, come noto, ha realizzato un nuovo chiosco a pochi metri del precedente. La realizzazione del nuovo chiosco di gelati è stata autorizzata dall'amministrazione comunale ma le spese sono state a carico dei proprietari, mentre la demolizione del distributore di carburante che si trovava tra la gelateria e l'edicole è avvenuto a cura della società di distribuzione carburante. E parliamo dell'allagamento dello scorso 15 ottobre a Partinico. Il comune ha chiesto lo stato di calamità naturale e inoltrata l'istanza alla regione. Tantissimi i danni causati a case, scantinati, automobili e attività commerciali in diverse zone della città. Il comune di Partinico ha richiesto alla regione lo stato di calamità naturale in seguito agli allagamenti che si sono verificati lo scorso 15 ottobre e che hanno causato danni ad autoabitazioni ed attività commerciali. La protezione civile ha inoltrato l'istanza che mira a ottenere il risarcimento per l'evento calamitoso che ha messo in ginocchio Partinico, mandando in tilt in particolare le aree più a rischio come il quartiere attorno a Largo Ascone, la via Kennedy e la zona della via Maggiore Guida. Da vedere ora come, da Palazzo d'Orle, anzi, si muoveranno in seguito a questa richiesta che certamente non sarà l'unica della Sicilia. I cittadini pare che si stiano muovendo per intentare una causa nei confronti del comune per i danni subiti, ad essere messo sotto accusa il sistema di smaltimento delle reti fognarie, anche se l'amministrazione comunale smentisce. Ciò che è accaduto il 15 ottobre è un evento eccezionale, ribatte l'assessore alle manutenzioni, Giovanni Pantaleo, che nulla ha a che vedere con il presunto intasamento delle reti di smaltimento. Si sono abbattuti su Partinico 53 mm di pioggia e nemmeno la più efficiente delle reti fognarie avrebbe potuto smaltire quell'enorme quantità d'acqua. I ricorsi? I cittadini possono farli, ma non credo che abbiano speranza di vincerli. Sul problema invece collegato alle disastrose condizioni delle strade, altra causa di centinaia di richieste di risarcimento danni contro il comune, Pantaleo puntualizza. Per ciò che di nostra competenza, precisa l'assessore, ogni anno garantiamo all'incirca 40.000 euro per la sistemazione delle arterie, senza considerare che nel 2015 e nel 2013 c'è stata una manutenzione straordinaria pari a un ulteriore stanziamento di 300.000 euro. La verità è che la maggior parte delle buche sono prodotte da scavi di privati, poi non sistemati a regola d'arte. Proprio in questi giorni la Giunta ha dovuto ricorrere alla Costituzione in giudizio contro due cittadini che hanno chiesto all'incirca 3.000 euro per danni all'auto in viave dei Platani e per la caduta di un pedone in un marciapiedi sconnesso in una strada del centro storico. Per il municipio quindi si prospettano tempi sempre più duri. Nei mesi scorsi è arrivata anche la batosta di una richiesta di risarcimento di ben 800.000 euro avanzata dai familiari di Pietro Paladino. L'ex consigliere comunale, presidente della cooperativa Erriguaiato, morto il 23 giugno del 2009 a seguito di un incidente stradale avvenuto in una stradina comunale che sfociava sulla provincia L2 che è collega a Partinico con San Giuseppe Iato e San Cipirello. Ci fu uno scontro frontale e secondo il legale della famiglia Paladino l'episodio avvenne a causa della carente manutenzione della sede stradale da parte del comune di Partinico. È un problema mentale difficile da curare. Solo ieri abbiamo risanato una discarica ma nemmeno 24 ore dalla bonifica e qualcuno ha pensato bene che si potesse nuovamente scaricare del materiale proprio sull'area dove abbiamo fatto l'intervento. È una vergogna che mi fa pensare al perché questa nostra Sicilia non decolla con la giusta intensità. Lo ha dichiarato il sindaco di Mazzara del Vallo Cristaldi commentando lo stato in cui versa stamani l'area di Contrada Serroni dove proprio ieri era stata fatta un'intensa operazione di bonifica e gli operai del comune però hanno già provveduto a ripulire nuovamente l'area. È un problema mentale, continua Cristaldi, che riguarda vasti strati della popolazione. Non si tratta di esigua minoranza ma di una minoranza folta, testimonianza di una retratezza culturale difficile da superare. E a proposito di rifiuti, la Valle del Belice intravede all'orizzonte una nuova emergenza. Tra 48 ore scade il termine per poter conferire rifiuti nella discarica di Campobello di Mazzara dalla regione. Ancora silenzio. La zona del Mazzarese e della Valle del Belice rischiano di piombare in una nuova emergenza rifiuti. Scade infatti giovedì prossimo la proroga concessa dalla regione ad 11 comuni del Trapanese per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di Contrada Campana Misidi a Campobello di Mazzara. L'impianto è gestito dalla Belice Ambiente e ad oggi la società che è in liquidazione non ha ricevuto alcuna comunicazione. Il che significa che se la regione non si farà viva prima del fatidico 5 novembre i rifiuti solidi urbani non potranno più varcare il cancello d'ingresso del sito. Quindi i territori di Petrosino, Mazzara, Castelvetrano, Campobello di Mazzara, Partanna, Salemi, Santa Ninfa, Poggio Reale, Vita, Gibelline e Sala Paruta vanno incontro ad una grave emergenza rifiuti. Una situazione già verificatasi in passato quando in via provvisoria è stata utilizzata la discarica di Trapani dalla quale scaturì la denuncia per interruzione di pubblico servizio presentata dalla commissaria straordinaria della Belice Ambiente, Sonia Alfano, contro il sindaco di Trapani, Vito Damiano, che aveva in un primo momento vietato l'accesso dei mezzi alla discarica per evitarne il veloce esaurimento e quindi la chiusura con conseguenti disagi per i cittadini trapanesi. Nel frattempo anche la situazione degli oltre 300 dipendenti della Belice Ambiente non è delle migliori dato che gli stipendi vengono pagati a singhiozzo e sono stati eseguiti ulteriori pignoramenti nei confronti della società e dei comuni soci da parte dei creditori. In questo quadro il sindaco di Campobello di Mazzara, Giuseppe Castiglione, ha preannunciato di voler presentare denuncia nei confronti della società guidata da Alfano per i disservizi che si sarebbero registrati in città nella raccolta dei rifiuti e che hanno spinto il primo cittadino ad emettere un'ordinanza urgente e contingibile per affidare a una ditta privata il servizio di raccolta, come già è accaduto a Mazzara del Vallo, una situazione complessivamente critica che giorno dopo giorno rischia di sfuggire di mano e che soprattutto potrebbe portare a conseguenze drastiche sul piano ambientale. Il sindaco delle Isole Egadi e presidente dell'area marina protetta Isole Egadi, Giuseppe Pagotto, rivolge un sentito ringraziamento alla senatrice Pamela Urru che ha seguito costantemente l'iter del disegno di legge collegato ambientale sottoscrivendone alcuni emendamenti accolti dal governo e già votati in aula che prevede misure importanti in materia di politiche ambientali e di sviluppo. Grato per l'iniziativa che comprende un ulteriore emendamento sottoscritto dalla parlamentare siciliana relativo alla pulizia dei fondali marini nelle aree protette anche il direttore dell'AMP Stefano Donati che così commenta si tratta di un provvedimento importante che consentirà di coinvolgere pescatori ed enti gestori delle aree marine in opere di bonifica dei fondali fino ad oggi rese impossibili dai divieti di legge. E il litorale castellammarese è ancora una volta set prediletto dai registi. Fino al 21 novembre è vietato l'accesso a mezze persone in un ampio tratto di costa e di mare per le riprese cinematografiche di una società di produzione romana. Si tratta di Tini, la nuova vita di Violetta, personaggio amato dai più piccoli. Il litorale castellammarese ancora una volta diventa set cinematografico parte della costa e off limits da ieri e fino al 21 novembre per le esigenze della Lapis Film, società di produzione cinematografica di Roma rappresentante in Italia del The Walt Disney Company incaricata delle riprese del film per il cinema dal titolo provvisorio Tini e che ha ottenuto le relative necessarie autorizzazioni. A renderlo noto la Capitaneria di Porto di Trapani che ha emanato un'apposita ordinanza che prevede in tale periodo il divieto di accesso, transito, sosta di persone e mezzi terrestri non autorizzati nonché la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, la sosta, la pesca e ogni altra attività marittimo-nautica per un raggio di un miglio. Le zone interessate dalle restrizioni più dettagliatamente sono la tonnara di Scopello il tratto di litorale compreso tra Castellammare del Golfo e la tonnara stessa quindi cave della Vuciria, fossa dello Stinque dintorni la baia di Guidaloca e le acque prospicenti la riserva naturale dello Zingaro il riferimento è in particolare alla caletta Tonnarella del Luzzo. In queste aree verranno eseguite le riprese cinematografiche le operazioni di quotidiana preparazione e ultimazione dei setti in mare per i quali verranno utilizzati diversi mezzi tra i quali un motopesca, un gozzo, due catamarani e diversi gommoni e spazi demaniali marittimi a terra. I contravventori, avverte la Capitaneria, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potessero derivare a persone o cose incorreranno nelle sanzioni previste dal codice della navigazione. Le uniche deroghe riguardano ovviamente le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e quelle in genere adibite a pubblico servizio di emergenza o soccorso in servizio d'istituto. Sarà dunque ancora di scena a Castellamare del Golfo, non nuova, con i suoi incantevoli scorci, ai ciac dei registi. Nel corso degli anni è diventata infatti il set ideale non solo per servizi fotografici, fiction televisive, spot pubblicitari, ma anche di prestigiose pellicole come quella, solo per ricordarne una, forse la più nota, di Ocean Twelve con un cast di stelle hollywoodiane. Adesso un genere del tutto diverso e amato dai più piccoli, il lungometraggio Tini, la nuova vita di Violetta, che sarà girato tra la Spagna e la Sicilia.